Buongiorno a tutti, sono Massimiliano Ciferri, sono il county leader di Arrow Global, il principale investitore in questa operazione. Noi siamo parte di un gruppo internazionale, Arrow è una società quotata sul mercato londinese, siamo presenti in 5 paesi, in Italia, in Inghilterra, in Irlanda, in Portogallo e in Olanda. La nostra natura è prevalentemente di acquisire e gestire crediti, quindi non siamo di natura tipicamente immobiliare e abbiamo tuttavia deciso di investire in questa realtà per due ragioni principali. La prima è perché riteniamo che sia una realtà interessante, di qualità, che abbia comunque all'interno delle potenzialità che non sono ancora state sviluppate e quindi come investitori e come azionisti, abbiamo ritenuto che questa, sebbene sia un po' al di fuori delle attività tipiche di Arrow, sia fosse una realtà interessante. La seconda è perché la realtà ci è stata presentata da una società, Appian Investments, quindi la persona di Alberto Agnes, col quale noi abbiamo avuto modo di lavorare in Inghilterra quando lavorava per Morgan Stanley in Italia e conosciamo Alberto da tempo, è una persona capace, intelligente, pignola, cosa importante per questo tipo di attività e quindi riteniamo che l'insieme della qualità immobiliare di una realtà sviluppata con le ultime tecnologie, con made in Italy, con materiale di alto livello, con concetti energetici all'avanguardia, insieme all'attenzione e alla precisione di una società come Appian Investment, sia una tutela sia da parte nostra come investitori e sia anche per voi clientela retail. Vi invitiamo quindi a visitare quanto più o meno in realtà possibile, a fare domande e a cercare di rilanciare questo investimento nel quale noi puntiamo moltissimo. Prima di parola passare la parola al dottor Agnes, volevo comunque ringraziare le autorità, in particolare nella figura del professore qui presente con noi e al quale poi avremo la possibilità di passare la parola, quindi grazie ancora a tutti e Alberto a te la parola. Io mi comuno ai ringraziamenti al professor Galimberti, all'avvocato Civati, al professor Simone per essere venuti e partecipare a questo evento. Noi abbiamo creduto fin da subito nel potenziale di questo complesso. Il fallimento aveva un po' la bloccato, poteva far degenerare questa situazione e creare una situazione addirittura di decadenza dell'immobile in cui invece tanto era stato già investito e tanta qualità era stata fatta bene. La crisi del gruppo Pemma, che faceva parte, non è originata dalla qualità o da problemi di questo complesso, ma era da altre parti del gruppo. Una volta caduto, però, la crisi finanziaria di fatto non ha reso possibile quella società. Quindi appena venuto a conoscenza di questa situazione di crisi, a Pianna, la mia società infatti, è specializzata nel rilancio di progetti di società in crisi. Era chiaro che bisognava velocemente riprendere in mano il progetto e terminare quello che era già stato ben iniziato dallo sviluppatore della Pemma. Purtroppo ci è voluto sempre più tempo di quello che avremmo sperato, con i tribunali, giudice, curatore, eccetera. Anche se sono stati cercato, all'inizio del possibile della legge, di aiutare a velocizzare, però vi ha perso alcuni anni. Questo ha dato chiaramente una situazione di stress anche alle persone che avevano acquistato e che era una situazione di difficoltà, perché dovevano sostanzialmente in pochi sobbarcarsi il posto di tutto. Quindi io ringrazio per la pazienza e la capacità e la volontà di mantenere il condominio che ha finanziato questo. Anche adesso tutte queste opere di miglioramento hanno seguito la nostra volontà e condividono la volontà e la passione, diciamo, per questo bene immobiliare. C'è stato un lavoro di squadra per fare questo. Devo dire, non sarebbe stato possibile senza la collaborazione di tantissimi professionisti locali, prevalentemente, come l'ingegner Tunici, ma anche l'ingegner di Roma, che aveva seguito gli impianti che ci hanno aiutato molto nella biodiversità iniziale e, diciamo, anche da ultimo per l'aspetto estetico l'architetto Capolaso. E quindi con il loro aiuto, più l'aiuto delle ditte che hanno eseguito questi lavori. L'aiuto e anche la collaborazione, devo dire, molto partecipata di buone aziende italiane e produttrici. Ad esempio, il Piastrelle, la Marazzi è stata, si è fatta in quattro, per aiutarci, per darci la possibilità di trovare dei prodotti veramente di eccellenza. la Bificino, con cui abbiamo collaborato per dare il massimo della tecnologia e aggiornare quindi l'offerta. Quindi società locali che, in qualche modo, hanno creduto anche loro in questa iniziativa e in una volontà comune di rilanciare questo progetto, di riportarlo, diciamo, un po' a quello che sarebbe dovuto essere fin dall'inizio. Perché questa festa? Secondo me, perché questa, secondo me, è una celebrazione di inaugurazione e già c'era stata in questo contesto. Quindi una nuova inaugurazione per dire abbiamo voltato patina, certo, però anche per condividere un'emozione. Un'emozione che l'architetto Capolaso ci ha aiutato in qualche modo a chissarizzare. Ma come vedrete entrando, è impossibile, anche se con questa giornata non è proprio il massimo, andare su e vedere questo spettino verde interno che va con lo suono di Villa Baraggiona, oppure il Sacromonte dietro, ma nel giornato di sole il Monte Rosa, e non emozionarsi. Quindi avere questa, un po' questo, è quello che l'architetto a cui adesso, ringraziando, passo la parola, dove ci è riuscito adesso a fare. Quindi spero di condividere questo con voi per fare in modo che, insomma, un angolo un po' poco conosciuto di Varese possa essere aperto e conosciuto. Grazie. In tutto grazie a tutti per essere qua e partecipare a questa nuova inaugurazione. Ma veramente il dottor Nielsa ha messo un punto fondamentale. È stato un gioco di squadra veramente importante perché i tempi che ci hanno dato erano molto stretti. La squadra è stata molto affiatata, veramente ha già citato le persone, l'ingegnere, il dottor Nielsa. Io poi mi dimentico sempre di ringraziare qualcuno qui, non ci mento nei nomi, però quello è veramente un punto importante. Faceva presente che oggi è vero, questo posto qui quando c'è una giornata di sole è stupendo, ha una vista incredibile. Però anche se oggi piove io dico dobbiamo essere contenti. E io sono contento che questa inaugurazione sia che stia avvenendo con una giornata di piove. Perché l'acqua è il bene più prezioso, uno dei beni più preziosi che abbiamo. E non dimentichiamo che quest'anno, in causa i cambiamenti climatici, abbiamo avuto degli anni più caldi. Quindi il fatto che ci bagni è questa inaugurazione è una cosa da prendere. Tornando all'acqua, per esempio questa parete che voi vedete è un vero giardino, non è uno stabilizzato, è stato fatto per dare la comunicazione all'esterno di quello che è l'anima dell'interno di questo complesso, che vedrete molto a mio avviso piacevole. C'è una sorta di benessere già entrando, c'è una silenziosità, ma in più c'è una con presenza traverde costruito che permette secondo me di avere delle sensazioni positive. Tra l'altro questo sistema adotta la Fertirrigazione, è lo stesso che hanno usato sul padiglione Spod Israele, perché loro sono molto avanti su questo e stanno facendo un controllo sull'acqua, sul risparmio dell'acqua è importantissimo, infatti ha tutto un sistema, è tutto fetto irrigato, dietro c'è tutto un sistema complesso e serve anche per erogare a micro boccia per contenere qualsiasi spreco dell'acqua, perché non venga dilavata. In più con le stagioni cambia. È un omaggio che io ho fatto un po' anche alla mia città, Varese, perché la compresenza del costruito e del verde è unica in Italia su questo aspetto, quindi dobbiamo pensare anche in ambito innovativo. Vi invito poi dentro a visitarne e a guardare gli appartamenti campione, come dice il nome sono campione, io ho pensato a un arredo e a un allestimento abbastanza standard, anche secondo le mie cose, confrontandomi molto sempre con il dottor Nies che mi tirava indietro molte volte, però secondo me da un'idea del benessere generale che può costruirsi uno nella sua vita abitativa qua. Ci sono dei richiami anche delicati ma forti. Ho inserito delle carte da parati con un richiamo anche un po' mediato magari sulla natura o su degli aspetti un po' di serenità, ognuno li intende come vuole, anche gli arredi, i toni, i vestimenti sono stati pensati le luci e quindi a me non resta che invitarvi a scoprirlo.